cari amici di vbtv rieccoci qui in questo sabato sera 26 di novembre pronti per un nuovo appuntamento con il radio zappi edizione serale in questa serata in cui oltre alla prima del nuovo cinema di brembilla ci sono anche altri avvenimenti un po il nostro paese mi viene in mente quello poi vabbè siamo edifici dal black friday sono reali luce anche da altre cose iniziamo subito splendida niente da dire splendida inutile anche annunciare di chi sia penso che sia liberamente utilizzabile forse bloccato in qualche paese bellissimo bellissimo michele zarrillo lo sono sempre quando scrivo il prossimo disco che sentiamo estratto da un album con il titolo war is the answer l'album che li ha resi popolare in tutto il mondo la sfida da punch di utilizzare un dialetto credibile in una scrittura nuova vabbè si va tanta pubblicità stasera dopo almeno tu nell'universo l'icona pop anche loro chissà che fine hanno fatto questo è l'ovid anche se all night è decisamente migliore a mio avviso questo è il jack ball pochi cinque anni fa è uscito l'album dangerous 4minutes anno 2008 madonna e justin tirovic primavera 2008 qui un'altra bella parodia di forum bene benissimo silenzio bezzato il 7 maggio 2016 al teatro dell'opera di firenze per un sabato per l'occasione vecchia cancione degli articoli 31 credo non ci siano neanche più perchè jayax ormai è su lista già da tempo anno 95 credo tranqui funky a skyfall of stars a skyfall of stars colplay prodotta da vici estate duemila e 14 credo questo è il pesante bene in fronte abbiamo il vira da lucca pronto pronto ecco la musica del momento non so chi sia mi pare raffreddato ripicito come parla marilungo scarsina su avventura tempo e finora i marilungo e non è che abbia fatto l'azione offensiva da parte degli avversari c'è un traversone in mezzo a maccarone che sa per arrivare croce che non colpisce da pallone comette ad anzi tallo ai danni di un avversario ci sta il calcio di posizione del milano all'interno della sua area di rigore a subire l'azione irregolare del numero 11 di casa è stato ignazio abate uno dei migliori in campo per il milano non che ex uno dei migliori se non il migliore in assoluto stavo vedendo che l'empoli avrebbe tra i giocatori da sostituire anche Alberto Gilardino e infatti si sta anche Gilardino che lui molto deludente certamente ha giocato i migliori anni della sua cadera nel milano proveniente dal parma dove peraltro aveva disputato splendide stagioni nel frattempo c'è il mi sembra molto raffreddato ma è repice afono in facilità rispetto ai tentativi di pressione avversaria pressione che si è affievolita anche psicologicamente visto che l'empoli nonostante abbia corso tanto un buon costrutto peraltro nel corso di questa partita non è riuscito a limitare i danni il milano in vantaggio per 3-1 quando siamo al ventottesimo nel corso della ripresa 3-12 alla termine scusate 17 minuti al termine salvo recupero sicuramente ci sarà per saponara vince un contrasto con pasale ci poi serve bene delle migliori maccarone maccarone deve mettere palla sul destro corto il pallone per marilungo anzi per croce che viene fermato all'ultimo momento dall'ottimo ripiegamento difensivo ad opera di romagnoli con il pallone adesso giocato da suso in posizione di una destra va a coprire di ossesso di lui allora suso con l'altro anticipo delle 18 torino battuto chievo 2-1 un altro cambio adesso domani alle 15 effettuato che sta per effettuare martuscello si genoa juve bologna atalanta in attesa dello scontro diretto di sabato prossimo non mare lungo che in realtà si sta toccando il frissore della coscia destra è probabilmente infortunato quindi vabbè domani sera roma palermo due partite anche lunedì sul terreno del gioco il gilardino un ex giocatore del milano tra cui l'inter fiorentino e le riflessioni di calcio invece saranno martedì attaccante poi centrocampista poi decide di retrocedere nel suo ruolo che è quello di difensore centrale per non lasciare scoperto il pacchetto arretrato della squadra nata da Vincenzo Montella di prima buonaventura per lì ok riusciamo a organizzare attraverso degli oratori anche stupendi tormentone dell'ultima estate qualche raggio ancora il coraggio di proporlo questo è di Kunks this girl torna indietro rapidamente un successone di Raph del 93 credo vinse il festival bar se non sbaglio come singolo poi della pianola gioca fino al 2000 il Stadio Noem bella la nuova diade l'amoroso bella sul ciglio senza fare rumore bella bella ok Milan quindi ha già dato sta vincendo 3 a 1 quindi è ormai finita direi che per questo sabato sera è tutto qui sabato prossimo appunto ci sarà il big match appunto tra Juventus e Atalanta che potrebbe ripetersi anche in Coppa Italia se l'Atalanta eliminerà il Pescara nel frattempo noi chiudiamo qui il nostro appuntamento questa serata di sabato 26 novembre vent'anni esatti dalla vittoria intercontinentale della Juve sarebbe anche quello di dare una giornata però questa è statistica noi ci vediamo alla prossima e buona serata e buon tutto e alla prossima ciao